E' partita il 7 novembre la campagna anti-influenzale. Molte persone devono assolutamente procedere a questa forma di immunità. Sì, siamo partiti il 7 con la campagna organizzata anche questa dalla regione Abruzzo. Noi siamo un po' la ASL pilota nel senso che la campagna di comunicazione parte direttamente dalla ASL di Teramo per tutta la regione. E' chiaro che noi non ci tiriamo indietro ma soprattutto abbiamo iniziato intanto con i nostri operatori perché abbiamo comunicato a tutti gli operatori dei presidi, a tutti gli operatori della ASL che sarebbe opportuno che si vaccinassero tutti. Non è un obbligo ma è una raccomandazione. E poi alla popolazione naturalmente ma soprattutto alle persone più fragili per quelle intendiamo i cardiopatici, gli immunodepressi e gli over 65. Ciò non toglie che chiunque ha il desiderio o ritiene opportuno vaccinarsi possa farlo perché l'immunità più è vasta più tutela la cittadinanza. Che significa? Che se un familiare ritiene per poter assistere meglio una persona fragile di vaccinarsi perché andando in giro, frequentando comunità, rischia poi di riportare l'influenza a casa e quindi di contagiare il proprio familiare, diciamo tra virgolette fragile naturalmente è opportuno che lo faccia. Quindi che dire, noi abbiamo iniziato la campagna a disposizione c'è la campagna regionale che facciamo noi a disposizione c'è il nostro numero verde per le pedesca vaccini quindi chiunque vuole può naturalmente telefonare e avere le informazioni del caso e i chiarimenti richiesti. Noi ci siamo e quindi ci siamo e continuiamo. Ovviamente a raccomandare a tutti vacciniamoci perché vaccinandoci tutti noi riusciamo a governare quindi a governare il fenomeno ma soprattutto a rendere più ad aumentare quella che è la cosiddetta immunità di gregge che oggi non piace però è l'unico modo per salvaguardare la salute di tutti e noi come istituzione dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri cittadini.